Bella ragazzi, bui pazzi e benvenuti oggi in questo mio nuovo video con un joypad stragnocco siamo qui ragazzi con il terzo video in tre giorni, quindi esigo 250 mi piace per un prossimo video intanto passa un camion della madonna fuori dalla mia finestra quindi niente ragazzi, sono qui per farvi vedere un club tour, diciamo un po' un piccolo tour che poi varierà, anche perché i crediti ce ne ho a disposizione quindi pensavo di fare ad esempio questa cosa all'incirca ogni tre settimane barra un mese più o meno ditemi ovviamente se vi piace questa nuova idea nei commenti, quindi un pollicione in su, lo voglio, lo esigo almeno 250, quindi ragazzi iniziamo con le squadre, sono 6 squadre, non sono chissà che cosa ma ci sono alcune squadre che mi piacciono veramente molto partiamo dalla prima che è una semplice liga portoghese mi ci sono trovato abbastanza bene soprattutto con Nani e Cristian Tellio che ho trovato nel pacchetto, infatti vedete il primo proprietario mi ho trovato bene con l'alto perché intanto avevo preso la sua carta IF l'avevo comprato, poi l'ho trovato, ho venduto la sua carta IF mi sono trovato bene perché sono entrambi due costatori della Madonna e Jackson Martinez sui colpi di testa è veramente veramente una bomba ragazzi poi ho scelto i due difensori centrali, ovvero Bolli che è i due difensori centrali più forti praticamente della liga portoghese perché sono quelli che hanno più di 70 velocità e più fisico soprattutto Bolli è una vera bomba, va bene, che ha poca difesa però è veramente veramente forte anche perché è alto, veloce e anche forte fisicamente quindi ottima squadra, ve la consiglio, costa veramente nulla perché te e io costa tipo su 12-13 mila credit e mi devi squillare il telefono giustamente eccoci qui mi hai squillato il telefono veramente costa poco, all'incirca spenderete 16-17 mila credit forse è già troppo e vi trovate veramente bene perché sono ottimi giocatori passiamo alla prossima squadra che è una squadra che diciamo punta solo sul bug è proprio la squadra da tipico nerdone 5 difensori con 2 diciamo terzini barra ale che corrono abbastanza 100 campo fisico, guardate Marchisio quanto l'ho usato è veramente una bomba, veramente uno dei centrocampisti più forti del gioco 100 campo fisico e soprattutto abbastanza rapido adesso ho messo l'81 in angola ma solitamente uso il 79 e attacco altrettanto, adesso lasciamo stare che adesso ho messo questi perché li avevo trovati in pacchetti ma veramente questa è una squadra veramente top ragazzi se volete fare i nerdoni fidatevi Glic, l'ho portato due partite, l'ho trovato in un pacchetto pecca in difesa ma con due difensori veramente veloci vi assicuro che è veramente 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 forte questa è la panchina, ne ho trovato, ne ho trovati due questo invece me l'ho pagato squadra veramente ottima per i nerdoni che amano puntare sul bug passiamo alla prossima squadra ragazzoni io direi di passare alla squadra questa questa squadra è un misto tra la liga olandese tra il campionato olandese e la serie A mi ci sono trovato abbastanza bene Milik è praticamente Lewandowski insomma Kishna è la perca ragazzi, 5 sale skill bellissimo ha tanta agilità ma ha poca velocità e vi giuro su quello che volete che sottoporta è una vera pippona perché con 50 anni di tiro gli permette anche 96 cacciatori ma è veramente un pippone sono stato sorpreso da un giocatore in particolare in questa squadra ovvero da Jethro Willems è probabilmente il terzino sinistro più forte che io abbia mai provato piede debole, skill, fisico, tiro, velocità, tutto e soprattutto c'è tipo 95 di elevazione è veramente veramente un top player pensate che ha un anno in più di me l'ho detto tutto passiamo alla prossima squadra ragazzi io direi passare a questa che è una delle squadre che più ho utilizzato su questo gioco perché mi trovo veramente veramente bene allora Klichy uno dei terzini più forti del gioco e il più forte della BPL Company che l'ho trovato in un pacchetto non posso venderlo ma vi assicuro che una volta che ce l'avrete non potrete venderlo perché vi innamorerete di questo giocatore che è fantastico in tutto Art Bagatone sempre Chiellini Cavanda alto bel Bagatone il terzino destro più forte uno dei terzi dei testi più forti del gioco dopo Walker probabilmente e De Marcos guardate che statistica davanti a velocità 68 difese 79 di fisico Marchisio Pirlo che è veramente Mozart dopo ve ne riparlo Fernandinho top davanti Super Mario Ballotelli 117 partite 109 gol 31 assist l'attaccante tipico l'unica pecca è il work rate basso basso non è buono se fosse stato anche normale basso sarebbe stato il top Caldeva non vi mostro le statistiche ve lo mostrerò nella squadra che utilizzo tuttora e Bolasì che mi ha incantato veramente ragazzi un giocatore fenomenale un giocatore spettacolare in tutto fisico velocità dribbling tiro colpo di testa tutto skill poi vabbè ovviamente 5 stelle scrive veramente un giocatore perfetto secondo me l'ala più forte della BPL dopo un giocatore che io ho e vi mostrerò ora in teoria non vi dovrei mostrare questa squadra perché sarà la squadra della nuova serie che inizierò vi mostro la squadra ma non vi mostrerò il giocatore con la quale inizieremo questa nuova avventura vi mostro solamente la squadra questa sarà la squadra che utilizzerò nella prossima serie Deguer secondo me dopo Courtois è il portiere più forte del gioco se non a pari livelli non ho provato il SIF perché adesso per 3 milioni per un portiere non li voglio spendere mi ci sono trovato molto molto bene centrocampo molto fisico molto tosto è la prima volta che provo Azu lo proveremo con voi lo proverò con voi nella serie che inizierò e non vi dirò chi sarà l'attaccante provate a indovinare magari nei commenti vi dico solo che è un bronzone ma veramente è il top come statistica e lo proverò con voi nella nuova divisione passiamo all'ultima squadra ragazzi la squadra che utilizzo io la squadra secondo me più forte che io abbia mai provato fino adesso ovvero questa squadra questa squadra è il top adesso aspettate che metto i contratti che se no è anche brutto da vedere diciamo questa squadra mi ci trovo veramente veramente bene ragazzi ha una difesa molto veloce e molto fisica allora importa Thibaut Courtois che adesso con il fatto dei crediti eccetera costa solo 60.000 crediti poi difesa con company Clichy adesso comprerò Clichy Sif Chiellini adesso prenderò l'if Desciglio mi ha stupito pensavo di prendere la batte ma Desciglio mi ha stupito in positivo perché è completo in tutto in tiro a 44 ma non sembra che ha 44 ecco qui che centrocampo ragazzi un if un if e un man of the match Pirlo è fenomenale come vi ho già dato punizioni tutto veramente tutto l'ho pagato troppo perché l'avevo preso agli inizi adesso costerà più o meno 50.000 che prendetelo e le vale tutti non basatevi sul fatto della velocità Coutinho giocatore fenomenale a una al T passiamo dalle pecche diciamo l'unica pecche che ha secondo me è il tiro vi posso sicurare che ha 78 ma è come se avesse 14 di tiro ma ha un passaggio un'agilità un cross che sono veramente fenomenali infatti 7 partite 4 gol 4 assist Delph è il giocatore di questa squadra il secondo giocatore che più mi ha impressionato è un giocatore fenomenale in tutto pagato solo 25.000 crediti il punto è che l'ho trovato sul mercato perché tutti se lo tengono e fanno bene perché è un giocatore completo perfetto in tutto 7 partite 3 gol e un assist per un centrocampista centrale ora passiamo a Alexis Sanchez secondo me l'esterno sinistro più forte l'ala sinistra più forte del gioco li ho provati tutti ragazzi Ronaldo Hazard Ribéry tutti li ho provati e con lui mi trovo veramente veramente bene un'agilità pazzesca superiore ad Hazard in qualsiasi ambito tiro pazzesco cross pazzesco ha tanto fisico ha dispetto anche degli altri togliendo Ronaldo che va bene smostabile veramente un giocatore perfetto adesso che FIFA ha fatto questa cosa un milione per lui secondo me sono spesi veramente veramente bene passiamo al giocatore l'esterno destro li ho provati tutti anche qua Bale Robben Blacikowski cazzo ne so Sanchez da quella parte tutti li ho provati il più forte è lui Antonio Romoletto Candreva è una bomba ragazzi c'è un tiro d'esterno se voi lo prendete vi mettete a tirare d'esterno a giro è gol sicuro 14 partite 17 gol 4 assi questo costa più o meno 210-220 mila crediti top player prendetelo e poi questo qui ragazzi come vedete non ce ne sono sul mercato anzi ce n'è uno che adesso verrà comprato nell'arco di mezzo secondo è un giocatore fenomenale ragazzi uno degli attaccati più forti che abbia mai provato 5 gol 8 gol in 5 partite un assist a tutto dribbling anche se c'è 3 sterile skill dribbling work aids perfetto tunnel alto in difesa però da una mano anche la difesa colpo di testa perfetto 95 in colpo di testa elevazione 91 finalizzazione 88 veramente un giocatore perfetto se avete la possibilità ragazzi fatevi questa squadra se avete tanti crediti prendetevi cliché in forma e chiello in forma io saluto il vostro palazzo ragazzi non ho più fiato sarà una cosa un club tour che farò all'incirca una volta al mese spero possiate apprezzare che ho fatto praticamente 3 video in 3 giorni e il fatto di avermi portato questo video abbastanza sostanzioso un saluto al vostro palazzo 250 mi piace ragazzi se volete un video giovedì bar venerdì un saluto al vostro palazzo bella al vostro palazzo